Oggi è il 10 novembre 1928, Giappone, Hirohito, incoronato imperatore 1971, Cambogia, Ikemer Rossi al potere 1975, Trattato di Osimo, l'Italia rinuncia alla zona B di Trieste Commenta il fatto del giorno Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX Oggi viaggiamo nella magia delle note di Ennio Morricone Grazie a tutti